Il Consiglio regionale ha partecipato alla fiaccolata organizzata in occasione del 25 aprile e ha promosso con il Comitato Resistenza e Costituzione lo spettacolo Musica e Teatro per la Resistenza al Museo Diffuso. Esibizioni dell'Accademia dei Folli con Lettere alla Vita, se il cielo fosse carta, della compagnia Marco Gobetti con il monologo 1863-1992 di Giovanni Inoltre e di Fabio Caucino con testi originali tratti dal suo ultimo album Io Cambio. Come cantautore cercherò di dare il mio piccolo contributo affinché tutti inizino finalmente ad avere un piccolo libero pensiero che forse non sarà rivoluzionario ma se iniziamo a cambiare noi stessi forse potremmo un po' cambiare il mondo.